Clima di alta tensione nella tarda mattinata di ieri a Barletta quando una valigetta sospetta è stata individuata presso la sede del giudice di pace del tribunale accanto a un'aula nella quale era in corso un'udienza che è stata immediatamente sospesa. Allertata la polizia infatti si è temuto che la valigetta potesse contenere un ordigno esplosivo. Isolata la valigetta sono prontamente intervenuti gli artificieri che una volta avviate le procedure di sicurezza l'hanno fatta brillare. Fortunatamente hanno accertato che non si trattava di un ordigno. Dall'analisi successiva sembra contenesse alcuni marsupi vuoti copriabili da lavanderia, un fascicolo di uno studio legale e alcune carte plausibilmente riconducibili ad un'azienda barlettana. Pertanto l'ipotesi è quella di un atto dimostrativo. Per fortuna l'abbandono di una valigetta nell'area dove opera l'ufficio del giudice di pace si è rivelato solo un falso allarme, ha dichiarato il sindaco Pasquale Cascella. Saranno le indagini della magistratura da accertare, grazie anche alla professionalità con cui sono intervenute le forze dell'ordine, se si sia trattato di un atto creato ad arte per procurare allarme o se sia stata la conseguenza di scarsa cura e disattenzione a un bene personale.